La strada per comunicare Una strada che metta in collegamento le tante anime del riso Tante esperienze che provengono da un ambiente che ha origini antiche e che, grazie al millenario lavoro dell'uomo, è giunto fino a noi perfezionato nelle sue qualità e suggestioni La genuinità del lavoro di cultura diventa, su questa strada, una cultura del riso È il racconto del riso stesso, dal campo alla tavola Immagina una strada che aiuti ad ampliare gli orizzonti Per scoprire che il riso brecellese è fatto di terra, cultura, tradizione, storia Paesaggi che il tempo ha trasformato in un prezioso patrimonio che adesso puoi condividere La strada diventa uno spazio di incontro tra diverse eccellenze storiche del territorio Musei, opere d'arte, architetture, percorsi di pellegrinaggio e luoghi di grande valenza culturale Immagina una strada che offra alti livelli di qualità Agricoltori, ristoratori, albergatori, associazioni, proloco e enti pubblici uniti da un impegno quotidiano per fare in modo che la strada diventi un lungo e bellissimo racconto Una strada che riesca a trasformare gli abitanti di un territorio in custodi e narratori uniti dalla bontà di un prodotto e dalla bellezza di un sistema di vita unici al mondo Questa strada esiste già ed è anche la tua Vieni a scoprirla